24 sera è la sera di Cuccios che è praticamente la vigilia di Natale. Qui in Lituania vi è un'antica tradizione che mischia la parte pagana e la parte cristiana e si festeggia ovviamente a cena con i parenti stretti. Cuccios è uno dei momenti in cui tutte le famiglie si riuniscono a casa della persona che organizza la cena e si rinverdiscono tutti i collegamenti con i parenti. È una cosa che chiaramente viene da lontano e ultimamente sono state coniugate sia le parti del paganesimo che le parti del cristianesimo. Sul tavolo ci sono 13 piatti già pronti. Ovviamente il paganesimo dice che dovrebbero essere 9, poi col cristianesimo sono aumentati fino a addirittura significare il numero degli apostoli che partecipano all'ultima cena. C'è una grande tradizione ovviamente qui in Lituania tutti osservano Cuccios e si riuniscono in casa. Non c'è praticamente nessuno che va a mangiare fuori al ristorante ed è una cosa molto importante. I piatti sono tutti particolari ma non si può mangiare carne. Di solito si mangia o pesce e praticamente le aringhe sono una delle cose che viene servita più frequentemente e ovviamente tutti i piatti che non hanno a che fare con i prodotti di diary products, quindi tutti i derivati del latte e cose di questo tipo. Andiamo a vedere tutti i piatti e ve li descrivo uno a uno. Come dicevo i piatti devono essere 13. Ecco che abbiamo sulla tavola il kishelis, il silke che poi sono le aringhe che sono fatte in diversi modi. Per esempio abbiamo col pomodoro, le abbiamo con i funghi, in questo caso i funghi porcini. Poi abbiamo quello che viene chiamato a guono, in pratica sono dei biscotti fatti con i semi di papavero ammorbiditi nell'acqua. Dopodiché abbiamo il pane, ovviamente. Il pane è di più fatture, quindi pane bianco, pane di segale, pane nero. Poi abbiamo le verdure e quindi abbiamo quello che viene chiamato ruginta cupuste, quindi sono cavoli marinati, messi sotto sale e olio e conditi con olio di semi di lino. Abbiamo ovviamente ancora dell'altro pesce. Noi abbiamo fatto del pesce fritto, in questo caso con un po' di cipolle. Verdure marinate, in questo caso sono citrioli. Ancora del silke, quindi delle aringhe con le cipolle e sempre aringhe, in questo caso con le verdure e sono cipolle e carote. Chiaramente abbiamo anche delle patate, perché le patate sono il segno del terreno e delle mele. Abbiamo anche quello che viene considerato il vero pane sacrestale, che è il pane per la comunione e poi ovviamente abbiamo un extra che non è nient'altro che il salmone che viene fatto normalmente al forno, cotto con patate arrosto e le mele. Questo è quanto e questo è quello che si mangia durante i cuccius a Natale, quindi virtuale. Ciao!